cari amici del canale un grande saluto da nick chef bianconero prima di iniziare il video come sempre vi invito a iscrivervi al canale per far sì di supportarlo e far crescere le iscrizioni like se vi è piaciuto il video e condividere 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 il più possibile il video detto questo oggi in questo momento voglio fare un video su fabrizio corona su tutti i suoi reati che ha fatto che comunque leggerò perché non me li ricordo tutti a memoria ma prima di elencare i reati volevo dire volevo dirvi ma siamo seri ma noi crediamo ancora a fabrizio corona sulle scommesse calcistiche illecite di fagioli zaniolo tonali barella scamacca zaccani eccetera dopo che il signor corona che fa i nomi di questi giocatori è uscito dalla galera un anno e mezzo fa per aver scontato tutte le pene e noi ancora crediamo a lui non so ma facciamo i seri ma facciamo i seri anche la giustizia non so come la giustizia gli da potere di parlare comunque adesso vi leggo tutto il piano di corona allora ma ma allora inchiesta valetopoli 2007 2014 3.1.1 filone di milano 2009 2011 corruzione reati tributari 2007 2015 diffamazione truffa ed altri reati 2010 2015 intestazione fitizia di beni 2016 accusa di ricettazione 2023 corruzione guardie carceriari per fare entrare una macchina fotografica in galera 2000 qualcosa oltraggio di banconote false distruzione di un'ambulanza estorsione tossicità arrestato in portogallo per aver minacciato fatto foto che non doveva fare e infine frode fiscale fraude fiscale alla bancarota insomma questi sono in pochi di reati che ha fatto corona e per questo è stato punito che fra l'altro se volete li trovate anche in internet perché io mi sono documentato via internet ci tengo a dirlo per chi vuole documentarsi ma comunque il fatto è questo cari ragazzi e cari amici del canale noi ci stiamo fidando di un fabio corona che nella sua vita è stato sempre un infame un tossico un cocaumane e in più non è stata una bella figura maschile nel mondo perché è stato un delinquente diciamocelo diciamocelo obiettivamente è stato un delinquente la sua vita l'ha passata dentro e fuori dalle galere ha avuto varie fidanzate come belen e come altre attrici però non le non le ha sapute tenere non le poteva tenere perché comunque lui diciamocelo obiettivamente lui ha scontato la pega sconta tutte le pene però da ancora altre altre pene che dovessi scontare ma adesso credo che ormai procura e chi per esso ha messo da parte perché comunque sanno di che persona sanno che persona che insomma sanno che nella sua vita è stato un bandito anche pagava pagava varie spese con banconote false insomma è stata una persona da dimenticare però quello che io non capisco adesso come i magistrati o qui o chi per esso credono a lui su sta su stars commersopoli 2.0 non so aspetto vostri commenti sotto il video cari amici del canale vi auguro vi auguro un buon lunedì e un buon pomeriggio sempre forza juve mai molare fatemi il favore di iscrivervi almeno voi così centro gli obiettivi che mi sono prefissato e vi saluto al prossimo video